Riattivazione ufficiale per le telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale di Battipaglia. A tal proposito questa mattina è stato firmato un protocollo di intesa fra comune e carabinieri che permetterà agli uomini dell'arma di accedere alle immagini e di intervenire in maniera ancora più incisiva nel caso in cui vi sia la commissione di un reato. Si tratta di circa 30 telecamere a cui si aggiungeranno successivamente ulteriori altre 4 telecamere imminentemente e con un progetto poi di cofinanziamento con la Camera di Commercio di altre telecamere, queste particolari perché si tratta di lettura targhe, 5 letture targhe e 3 DOM, telecamere che vanno a 360 gradi. Quindi è importante oggi perché le telecamere con la convenzione che il sindaco insieme al Maggiore Sisto dell'Arma dei Carabinieri vanno a firmare la convenzione per il controllo immediato da parte dell'Arma dei Carabinieri di queste telecamere in modo tale che nel controllo si va a guardare immediatamente la consumazione del reato e l'intervento immediato magari in caso di fragranza di reato. E le telecamere, da dirsi, sono anche in visione dei vigili urbani e in futuro il sindaco francese ha interesse anche a coinvolgere nelle future telecamere anche la polizia e il commissario di polizia di Battipaglia. Quindi una rete per controllare al meglio il territorio? È una rete per controllare al meglio il territorio ma rientra in quella che è la cornice di legalità che questa amministrazione francese si è proposta, ossia a partire dall'antiprostituzione abbiamo emesso l'ordinanza e ha sortito già i suoi effetti anche questa in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e con il commissariato di polizia la cornice di legalità all'interno del comune una cornice di legalità che attiene al controllo di quelle che sono le piazze di spaccio battipagliesi noi dobbiamo riapprovarci di quello che è il termine legalità battipaglia. Il senso di questa riattivazione di queste telecamere che già erano presenti sono state riattivate, riammodernate e con la possibilità di avere un contatto diretto da noi in centrale operativa nasce proprio con l'idea di dare una maggiore sicurezza una maggiore tempestività nell'intervento. Come ho già detto precedente queste telecamere non sono un grande fratello sulle abitudini dei cittadini ma servono semplicemente a monitorare a controllare i punti nevralgici della città o quantomeno in parte di questi punti nevralgici proprio per garantire al cittadino maggiore sicurezza e maggiore serenità nello svolgimento della sua vita quotidiana.